C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rollystone Girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America Non era bello ma canto a sé, aveva mille donne e sé Cantava Help o Ticket to Ride o Lady Jane o Yesterday Cantava viva la libertà ma ricevette una lettera La sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America Stop, coi Rollystone, stop, coi Beatle Stop I han detto vai nel Vietnam e sparai viette cor Oh, oh Allora Ministro, va bene così certo. Voglio chiederle che cosa le fa venire in mente questa canzone? Mi fa venire in mente il valore della pace, un valore inestimabile che dobbiamo preservare sempre. Scusi Loftopic, ma ho sentito dire in giro che lei suona anche la chitarra Eh, suono anche la chitarra, però non è che lei ha una chitarra con sé Non vorrei suonarla adesso, grazie No, basta così, va bene così